a me da come l'idea no? che lui dopo dopo una vita no? passata pure a fa' cose che va a essere lo zimbello no? se n'è andato con una cosa bella capito? quella che magari avrebbe sempre voluto fa' e lo capisco tantissimo è triste il fatto che magari gli tiravano le cose capito? è un po' gognativo è triste che adesso magari gli si riconosca qualcosa no? purtroppo solo un po' capito? ma è morto poco prima che è scissi è proprio greve sfortuna finale proprio si sembra tipo una beffa del destino della morte non lo so forse ci potrà far riflettere però sta cosa grazie 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 a tutti